Spin in piazza è in programma venerdì 5 luglio in piazza Palazzo. L'appuntamento, ospitato all'interno della cornice dei venerdì in centro, organizzati dal comune, si inserisce nel progetto Solo posti in piedi, educare oltre i banchi, un'iniziativa finalizzata dall'impresa sociale con i bambini nell'ambito di un programma nazionale di contrasto alla povertà educativa minorile, che prevede come obiettivo finale, dopo tante attività e tanti laboratori in classe, la creazione di una ludoteca in centro. Il progetto vede partner nove associazioni culturali aquilane, il comune e l'università e quattro istituti scolastici. I bambini venerdì saranno in piazza Palazzo protagonisti per elaborare delle idee su come vorrebbero la ludoteca comunale. Con dei piccoli mattoncini in piazza potranno direttamente dire la loro e scrivere come vorrebbero che fosse realizzata la struttura a disposizione dei più piccoli ma della città intera. Praticamente infatti dalle 18 alle 21 a piazza Palazzo verrà trasformata in un grande laboratorio a cielo aperto. Ci sarà un percorso che i bambini devono attraversare dal largo al movimento in cui si farà un movimento creativo, vicolo del musicista dove si farà la musica, insomma una specie di grande gioco in cui i bambini saranno invitati ad attraversare il percorso facendo attività con le varie associazioni coinvolte nel progetto. Alla fine di questo percorso conquisteranno il loro mattoncino sul quale, visto che è un mattoncino abbastanza grande di cartone, potranno disegnare o scrivere la loro idea di quello che dovrà essere questa ludoteca che, come voglio ripetere, al termine del progetto, quindi più o meno tra luglio e settembre dell'anno prossimo, sarà una realtà per questa città nel centro storico.